Ciao ragazzi, qua è l'Atalantino e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti al mio pensiero su Schmidt all'Atalanta. Allora, adesso vi spiego chi è. Allora, Schmidt è un mediano, un regista che sa impostare molto bene l'azione da quello che ho visto. Sì, ha giocato nel campionato brasiliano, però è stato comunque uno dei centrocampisti più forti del campionato. È stato fondamentale per il San Paolo e averlo preso a zero a me dà molta felicità. Ma è comunque un giocatore, allora questo colpo io do senza voto, perché comunque è un giocatore che dovrà adattarsi al campionato italiano e appunto dovrà abituarsi a giocare di partita in partita, anche a giocare l'Europa League. Non ha mai giocato competizioni internazionali e questo un po' mi preoccupa. Ma io ho fiducia. Allora, è un giocatore che vuole giocare per la squadra, è un giocatore che si inserisce a volte anche molto bene, ha un buon tiro da fuori e è anche un ottimo rigorista, ecco, da quello che ho visto io. Allora, gli piace impostare l'azione. Allora, quello che a lui piace è passare e correre, passare e correre, inserirsi quando c'è bisogno. Ha 24 anni, quindi non è assolutamente vecchio, quindi averlo preso a zero è una gran cosa, ecco. Perché potremmo farci veramente una grande plus valenza. Fatemi sapere ciò che pensate voi su Schmidt all'Atalanta. Per me sarà una... potrebbe essere una rivelazione della Serie A. Ciao ragazzi, a un prossimo video!